weee non fare il magazzino muffito da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice CREATOR clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci XIUDERONE DAIE bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono XIUDER e ragazzi mamma mia mettetevi comodi perché tra pochissime ore sarà disponibile la patch 10.20 con il downtime dei server questo vuol dire noi iniziamo la live alle 8 fra poco che vivremo insieme tutti i leaks tutti gli aggiornamenti le skin le novità i file di gioco in tempo reale in anteprima mondiale un po come facciamo tutte le volte che vanno giù i server quindi vi aspetto in tantissimi ma nelle novità del video di oggi parleremo anche della nuova bolla scudo non so se avete fatto caso alle notizie da qualche ora è disponibile questo nuovo oggetto che vedremo molto probabilmente in game tra pochissimo che par ne parleremo un attimino cercheremo di capirci qualcosa di più ma attenzione perché arriva anche un nuovo annuncio di ninja un annuncio molto particolare e molto molto strano che dura veramente pochissimo e sembrerebbe nuove cose grosse all'orizzonte chiuderemo poi con una bella sbadilata di leaks per tenervi sempre aggiornati anche sul dietro le quinte di fortnite prima però volevo ringraziare tutti quelli che utilizzano il mio codice creator xuderone grazie di cuore ragazzi per supportarmi nello shop quando scioppazzate di prepotenza mi raccomando iscrivetevi al canale e soprattutto attivate la campanella per non perdere nessuna notifica sui miei video e sulle mie live ma prima vi devo fare la domandina raga ieri anche tantissimi commenti anche ieri nella domandina quella di oggi siamo arrivati a metà season oramai ve la devo fare ragazzi quindi non inondatemi di commenti il video di oggi ma forza forza livello stagionale e livello pass battaglia come siete messi dai quanto vi manca fatemi sapere fatemi sapere che sono curioso qua sotto nei commenti ma io ce l'ho fatta ad arrivare alla fine del livello stagionale siamo al livello 70 invece del pass battaglia quindi una trentina di livelli prima del cavaliere d'oro non vedo l'ora di avere quel fottuto cavaliere d'oro ma quindi ciancio alle bande e bando alle ciance andiamo subito subito a vedere il nuovo aggiornamento arriva anche nella lobby ovviamente il pop up il periodo di interruzione del servizio per la patch inizierà alle ore 4 eastern time cioè per noi dovrebbe iniziare alle 10 quando dice gmt dobbiamo sempre aggiungerci un paio d'ore quindi noi saremo in live come sapete iniziamo fra tre quarti d'ora e proseguiremo fino a quando non verranno riportati online i server ovviamente questa patch come vi anticipavo ci preannuncia di già l'arrivo della bolla scudo questa bolla non è affatto facile da far scoppiare fatti scudo contro i proiettili con questa cupola protettiva domanda non è che questa è un'altra roba che hanno messo per contrastare il brutto perché io mi immagino ragazzi una roba che si può lanciare innanzitutto mi sembra proprio la forma di una granata un po' come il ve lo ricordate non il rift portatile il coso che lanciavi ti faceva il fortino ora mi sfugge mi sfugge il nome però una cosa abbastanza simile sembrerebbe appunto che saremo protetti non credo per un tot di tempo ma credo per un tot di hp quindi probabilmente questa bolla scudo sarà overpower anche la bolla scudo io mi immagino il trailer dove si vede la gente che si scanna violento e ci passa il tipo in mezzo con la bolla scudo guarda lo vediamo stamattina insieme perché sono troppo curioso comunque tanta roba veramente molto interessante speriamo che non vadi a stravolgere il gameplay anche perché uno scudo extra più il nostro shield beh ragazzi non dico che siamo immortali ma ci si avvicina molto molto e andiamo avanti con il prossimo argomento ragazzi parliamo ovviamente del rift beacon un'altra delle grandi novità attese per questa patch 10.20 putrido pantano abbiamo visto cronologicamente parlando neopinnacoli trasformarsi in tilted town corso commercio trasformarsi anzi grandi magazzini trasformarsi in corso commercio e il campo da calcio sparire nel nulla data l'esplosione del rift beacon questo invece è ovviamente quello presente tra il track and oasi e come si chiama gerusalemme chiamiamola così noi se io riuscissi a farvi vedere cattura lo schermo non me lo fa vedere dannazione a perché c'ho lo slide ovviamente ovviamente volevo farvi vedere anche che giustamente ci si aspetta il ritorno di palmetto di putrido pantano con le relative prigioni io sinceramente non so perché ma ho qualcosa che un po mi puzza ragazzi perché è troppo facile che mi torni così il putrido senza niente ragazzi e soprattutto voi ve lo ricordate quanto era grande putrido pantano era grande il triplo di corso commercio se volessimo paragonare a qualcosa di grande è vero che pinnacoli non è piccolina ma putrido pantano più le prigioni ragazzi tagliavano una fetta di mappa non indifferente secondo me era almeno tre quattro volte pinnacoli tutto assieme e almeno tre volte corso commercio quindi mi sembro non lo so non non lo so anche la community non è tanto convinta che rientri così prepotentemente il putrido pantano ovviamente noi ci auguriamo che arrivi di nuovo io me lo auguro davvero perché sarebbe un bellissimo ritorno al passato e intanto mentre passano transizioni meravigliose abbiamo già qua la fantastica faccia di un ninja ragazzi come vi avevo anticipato nelle ore pomeridiane di ieri arriva uno spezzone di 15 secondi proprio dal signor tyler come sapete ragazzi adesso scritturato da mixer quindi se cercate ninja su twitch ovviamente non lo trovate lo troverete su mixer pagato milioni e milioni di dollari direttamente da microsoft e sembra che i milioni stiano per rimboccargli nuovamente le tasche voglio farvi vedere sperando che non mi blindino il copyright anzi io non vi faccio sentire l'avanzi ma non me ne frega un cazzo mi fa sentire anche l'audio guardate ragazzi cosa dice il tyler la rivediamo la rivediamo la rivediamo un attimino 15 secondi di video disturbati ovviamente fatto apposta con questa scritta finale tomorrow 2 pm current time cosa vuol dire per noi il current time saranno le 21 di questa sera e qual è la particolarità che notate in questa immagine vediamo se ci arrivate forse non ci arrivate il carattere utilizzato per scrivere tomorrow 2 pm current time è quello di adidas potrebbe semplicemente essere una coincidenza nessuno dice che sia una collaborazione nuova di ninja con adidas però è anche vero che il carattere dell'azienda sportiva dovrebbe essere esclusivo quindi è un po strano come cosa ovviamente non si sa nient'altro questa è l'unica cosa è l'unico clip che ci manda il nostro ninja e staremo a vedere ovviamente quale saranno le novità se ne avremo tempo io vi pubblicherò sicuramente qualcosa su instagram e andiamo a chiudere ragazzi il video di oggi con niente perché abbiamo finito gli argomenti no abbiamo ricordo ragazzi che il donald ha messo la location in dusty che sarebbe i magazzini vi ricordo anche che l'immagine del visitatore riflette proprio il brutto lecito pensare che sia lui ad averla costruita ma l'immagine finale che volevo mostrarvi era proprio questa dove dovrebbe qua siamo quasi in end season è un'immagine che non è ancora presente in game come vedete tra i magazzini e le fabbriche c'è un nuovo cerchio quel cerchio lì azzurro praticamente sta ad indicare il cambiamento della location dovrebbe chiudersi la season 11 con qualcosa che accadrà un po dove tutto è iniziato quindi ai tre magazzini staremo ovviamente a vedere io vi ricordo che alle 8 cominciamo e ci sarà alle 10 il downtime vedremo insieme tutti i leaks vi ringrazio per aver visto questo video un bel pollicione in su iscrivetevi al canale noi ci vediamo in live ciao ciao